Presentati! Guarda, in questo momento mi piacerebbe suonare la chitarra e cantare ovviamente. Guarda, in questo momento mi piacerebbe suonare la chitarra. Guarda, in questo momento mi piacerebbe suonare la chitarra e cantare ovviamente. Guarda, in questo momento mi piacerebbe suonare la chitarra e cantare ovviamente. Guarda, in questo momento mi piacerebbe suonare la chitarra?